Sono aperte le consultazioni online sulla proposta di legge regionale per l'istituzione dei percorsi e delle palestre salute. Il progetto mira a promuovere l'attività fisica sia come prevenzione in ambito sanitario, sia come terapia e riabilitazione di persone affette da patologie croniche. Tra le novità, l'introduzione della settimana regionale dello sport e del benessere. C'è tempo fino a 2 maggio per depositare le memorie. Qual è la razio di questo progetto di legge? E' quello di considerare intanto l'attività fisica, aggiungo l'attività, l'attenta alimentazione come parte integrante della terapia. Cioè oltre alla somministrazione del farmaco, noi intendiamo la somministrazione fisica come un farmaco integrativo. La legge vuole essere un tassello che si inserisce in un quadro più complesso. Attività fisica e attenta alimentazione deve essere una rivoluzione culturale, anche se viene un po' poi da sorridere perché stiamo parlando di ovvietà e le banalità. Ma se oggi c'è una involuzione culturale è perché abbiamo tralasciato la conoscenza dell'ovvietà e delle banalità.